Il dramma del G8 di Genova raccontato attraverso le testimonianze dei protagonisti, il problema della disoccupazione giovanile, le insospettabili ricchezze naturali del parco urbano di una metropoli italiana, le catastrofi ambientali causate dall'uomo, i paradossi comici della crisi economica, la forza e l'umanità del corpo dei detenuti che si esprime attraverso la danza. Sono questi i temi dei corti vincitori del premio Anello Debole 2014. La cerimonia di premiazione, presentata dal direttore artistico del festival Andrea Pellizzali e dalla giornalista RAI Daniela De Robert, si è svolta sulla splendida terrazza della comunità lo scorso 28 giugno. Presenti alla serata, sbagliate autorità locali e nazionali, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, la vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Rosalba Ortenzi, l'assessore alle politiche sociali della provincia di Fermo Ezio Donzelli, il sindaco Nella Brambatti, il prefetto Angela Pagliuca, il presidente della fondazione Cari Fermo Alberto Palma, il presidente della Camera di Commercio Fermana Graziano Di Battista e il direttore di tipicità Angelo Serri. Le 23 opere finaliste, precedentemente selezionate dalla giuria di qualità tra le 268 partecipanti, sono state votate da una giuria popolare composta da circa 150 persone per determinare in maniera incrociata i vincitori assoluti delle quattro categorie del premio, audio cortometraggi, cortissimi, corti di fiction e corti della realtà. Il meccanismo di giudizio tra le due giurie è ormai sperimentato e consolidato negli anni, per cui la giuria di qualità fa una selezione di quelli che poi sono i prodotti che vanno in finale e sui prodotti che vanno in finale la giuria di qualità ha già scelto un po' quali sono le opere su cui puntare. Poi in realtà la giuria popolare è quella che sposta l'ago della bilancia, per cui riesce a travolgere anche a volte quello che è il pensiero della giuria di qualità, per cui la giuria di qualità segna spesso questo premio speciale, per cui le opere che secondo noi sono degne di nota alla fine comunque riescono ad uscire nonostante magari il giudizio del pubblico, che devo dire fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa era un po' discordante, cioè la giuria di qualità era molto distante da quello che era la giuria popolare. Adesso siamo molto molto vicini e questo è un grande traguardo. Certamente è una scelta adeguata perché sono stati più di 160, 170 giurati popolari, molti dei quali giovani, quindi capaci di leggere la realtà ma anche di leggere gli strumenti con i quali questa realtà veniva presentata. E devo dire anche che tra la giuria di qualità fatta da professionisti e i ragazzi che hanno scelto come giuria popolare, eccetto delle sfumature, sono stati quasi all'unisono orientati a quelle opere che poi in realtà hanno vinto i primi premi e anche i premi della giuria. E completamente all'unisono si sono espresse le due giuglie nella categoria audio, con l'amplen di Segepensu, di Marc Brunelli e Caterina Dal Molin. Il cortometraggio che raccoglie a 13 anni di distanza le voci dei testimoni dei drammatici eventi del G8 di Genova vince infatti sia il premio assoluto della giuria popolare sia il riconoscimento speciale della giuria di qualità. Questo lavoro nasce da un bisogno, il bisogno di fare una riflessione a distanza di più di 10 anni sui fatti di Genova. Tutto era materiale utilizzato nel processo del G8, disponibile su internet a processog8.org in Creative Commons e raccoglieva i tre giorni dell'evento che forse mediaticamente ha avuto più copertura al mondo. Come mai la scelta di un audio cortometraggio, nonostante l'abbondanza e la facilità di trovare immagini sul tema? Le interviste sono state raccolte inizialmente solo con l'audio, per cui a noi interessava proprio il racconto puro, il racconto di quello che avevano vissuto e di come quell'esperienza aveva trasformato la loro vita. Poi in un secondo momento abbiamo cominciato a guardare le immagini e c'è stato proprio un rifiuto, se vogliamo, perché queste immagini appartengono veramente alla nostra memoria collettiva. In quel momento la scelta di non metterla è stata una scelta non stilistica ma proprio anche di senso, ci sembrava una violenza ulteriore. Caratterizzata da un ritmo incalzante e una scrittura estremamente chiara, l'opera Segepensu rappresenta una ricostruzione straordinariamente intensa, quanto razionale ed obiettiva, dei fatti di Genova di 13 anni fa, un risultato reso possibile dalla pluralità di voci, convinzioni ed esperienze che hanno preso parte al progetto. Io forse ero molto più convolta, forse anche più condizionata e invece trovarsi a lavorare con una persona che non è forse anche ideologicamente meno condizionata o perché non l'ha vissuto direttamente è stato utile anche per questo. Sicuramente abbiamo lavorato su questa differenza tra averlo vissuto e non averlo vissuto, anche perché abbiamo saputo riportare una forma di distaccamento dai fatti e abbiamo potuto analizzare gli avvenimenti in modo più freddo e distaccato e sicuramente più analitico. Passando al settore video, nella categoria Cortissimi vince il primo premio assoluto Acqua Passata di Luca Stringara e Giacomo Benini, un corto ironico e amaro sul problema della disoccupazione giovanile. Riconoscimento speciale della giuria di qualità all'Houndscape di Filippo Giraudi e Virginia Evi, un film frutto di una lunga ricerca audiovisiva che mostra una Milano completamente diversa da quella che solitamente ci si aspetta, una città assolutamente inedita, piena di bellezze naturali, paesaggistiche e ricca di biodiversità. Nella categoria Corti di Fiction vince il premio della giuria popolare Debtfuls dei registi greci Filippo Svardagas ed Espina Economopolu, un geniale racconto tragicomico sui paradossi della crisi economica e sul problema dell'indebitamento attuale. Premio della giuria di qualità al corto Il mio grido, del coreografo freelance Vito Alfarano, un video musicale interamente girato dietro le sbarre nel quale i detenuti vengono stimolati verso l'esplorazione della propria emotività e condotti verso la riacquisizione della propria dignità di uomo. Nella sezione Corti della realtà dominano le tragedie ambientali, il recente disastro nucleare giapponese a Fukushima, la terra dei fuoti in campagna, i morti provocati dall'eternita Casale Monferrato, tutte opere di grande impatto emotivo e di altissimo livello tecnico che hanno positivamente complicato il lavoro della giuria. È molto difficile scegliere anche perché in questi anni è molto aumentata la qualità di queste opere. Io in particolare nella giuria di quest'anno ho seguito i corti della realtà ma devo dire che abbiamo avuto l'impressione noi tutti che facevamo parte delle varie giurie che c'è stato un grande innalzamento della qualità e soprattutto stanno arrivando un sacco di prodotti davvero costruiti con grande maestria, con grande professionalità, con grande qualità e questo significa che veramente il mondo del sociale oggi ha dei comunicatori capaci di trasferirlo in maniera assolutamente competitiva con i grandi broadcaster pubblici e privati, insomma con le grandi televisioni pubbliche e private. Molta produzione indipendente, molti freelance, molto capaci di raccontare. Devo dire che abbiamo fatto fatica ma poi alla fine erano talmente belle le opere che siamo stati in qualche maniera molto severi perché quando hai a che fare con tante opere molto belle devi essere severo e con severità abbiamo sicuramente scelto le migliori e devo dire di grandissima, grandissima qualità. Io sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto con la giuria quest'anno. Vince il riconoscimento della giuria di qualità il signore di Fukushima, gli Alessandro Tesei, che con le immagini surreali e struggenti di una città fantasma costituisce una testimonianza unica quanto eccezionale delle logiche e dei pericoli che si nascondono dietro la civiltà del benessere. Come è nata l'idea di questo documentario? Uno dei miei più chiari mesi d'infanzia ha fatto un percorso di studi che lo ha portato a vivere a Tokyo e da Tokyo lui mi raccontava da un paio di mesi dopo la catastrofe il governo aveva iniziato a compiere dei sotterfugi, così lui li chiamava, praticamente aveva iniziato a togliere dalle etichette delle buste del latte la provenienza sostituendola con codici alfanumerici che se te andavi su internet cercavi, inserivi e quant'altro riuscivi comunque a ottenere la provenienza, ma nella vita frenetica delle grandi città giapponesi nessuno assolutamente prendeva e si metteva a guardare, quindi delle piccole manorre che tendevano a nascondere alcune cose. Da lì il passo ad andare in Giappone è stato brevissimo, ho preso, ho fatto una piccola preproduzione, ho cercato dei contatti dall'Italia e dopo un paio di mesi sono andato. Un corto che racconta la storia di una persona eccezionale, una persona che nonostante gli enormi rischi per la sua salute non ha mai voluto lasciare la propria città. Esattamente, Masami Yoshizawa, è un allevatore che è uno dei simboli della tragedia giapponese e soprattutto della lotta della popolazione nei confronti del governo e dell'azienda che gestiva la centrale, la TEPCO. È una persona molto combattiva e è stato uno dei pochissimi perché attualmente sono, fin dall'inizio furono due le persone che ha deciso di non abbandonare la zona evacuata fu lui e un altro signore che si è dedicato al... diciamo che entrambi sono degli animalisti convinti. Masami Yoshizawa ha cercato di salvare il più possibile i capi di bestiame di cui la zona di Fukushima era ricca, quindi mucche per lo più, mentre l'altro si è dedicato di più agli animali da compagnia che anche essi erano stati abbandonati perché anche il governo fin dall'inizio dell'evacuazione aveva proibito a tutti i padroni di questi animali di portarseli via per un discorso di minimizzare la contaminazione verso l'esterno della zona evacuata. Quel tipo di radioattività, quindi la radioattività che ti assumi respirando aria contaminata, mangiando cibo contaminato, bevendo acqua contaminata, è un tipo di radioattività che a lungo termine ti causa dei grossi problemi, più che altro ti distrugge completamente le difese immunitarie e causa aggravamenti di malattie già esistenti, quindi se tu hai già una patologia, qualunque essa sia, con la radioattività, peggiora di gran lunga. Più ovviamente, il più grande problema della radioattività è quello che porta nelle generazioni a avvenire, ovvero al di là delle malformazioni visive, nel senso persone con difetti fisici evidenti, ci sono dei difetti dovuti ad alcuni materiali radioattivi che cambiano proprio i tessuti. Il corpo scambia degli elementi radioattivi per elementi positivi che assimila e rimangono quindi all'interno. Per esempio nei bambini causa delle grosse malformazioni al cuore, infatti soprattutto nella zona di Chernobyl ci sono bambini di 5-6 anni che hanno infarti come da noi le persone di 70. Si aggiudicano ex equo il premio della giuria popolare, il corto The White Town, la città bianca del fotografo Tommaso Ausili e l'inchiesta di Marco Fubini e Nadia Toffa, la camorra uccide anche senza le pistole, trasmessa dal programma Le Iene di Italia 1. La città bianca è Casale Monferrato, centro di 36.000 abitanti in provincia di Alessandria dove sorgeva il più grande stabilimento europeo della multinazionale dell'amianto Eternit. Questo è il secondo capitolo di una storia più globale che sto portando avanti. Sono ormai due anni che mi dedico alla tematica dell'amianto in tutta Italia. Ho raccolto varie storie fino che mi sono reso conto che non potevo prescindere dalla storia simbolo e dall'Eternit che tutte queste storie un po' le racchiudeva, aveva le caratteristiche di tutte le storie che avevo raccolto ed era differente principalmente nei numeri, nei grandi numeri. Basta pensare che a Casale, dall'apertura della fabbrica dell'Eternit che è avvenuta nei primi anni del Novecento, sono morte più di 1600 persone per patologie correlate all'amianto. Parliamo di morti che sono stati accertati perché prima degli anni Sessanta non si sapeva appunto se si vedeva morire persone ma queste morti non venivano ricondotte direttamente all'amianto. È stata una scoperta che sarà fatta negli anni. Non solo i lavoratori dell'Eternit. A Casale, un'intera comunità è stata colpita generazione dopo generazione da mesotelioma pleurico e asbestosi a causa di quella polverina bianca derivante dalla lavorazione dell'amianto per anni sparsa ovunque, in città e nelle campagne circostanti. Le vittime non sono soltanto gli operai. Qui si parla di una comunità che è stata contaminata. Una comunità che è stata contaminata a sua insaputa. Una comunità incolpevole che non aveva nessuna colpa se non quella di risiedere nel posto sbagliato. E questo forse è il lato più drammatico. Ha contribuito lei stessa a diffondere questo materiale molto pericoloso. Mi hanno raccontato infatti che l'Eternit regalava i prodotti di scarto, il cosiddetto polverino, regalava ai suoi dipendenti questo materiale di scarto che veniva portato dai dipendenti stessi nelle loro case di campagna per coibentarci i tetti, lo spargevano sui sentieri e facevano addirittura le aie. Nonostante i 50 nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno, i casalesi ancora oggi continuano a dividersi nel loro giudizio nei confronti dell'Eternit. Perché per molti di loro, paradossalmente, l'Eternit ha rappresentato la possibilità di una vita migliore. In questi casi c'è sempre stata questa lotta, questa discrepanza, questa divisione all'interno degli operai tra chi premeva per la chiusura della fabbrica stessa a tutela della propria salute e chi invece premeva per tenere l'aperta perché la fabbrica gli dà lavoro, la sussistenza comunque a molte famiglie. Non dimentichiamo che comunque il casale fin dall'inizio, quando la fabbrica aperta all'inizio del Novecento era una società prevalentemente agricola e l'apertura dell'Eternit è stata accolta come una liberazione. Parlando con la gente, la gente mi diceva appunto che essere assunti dall'Eternit era come aver vinto la lotteria perché ti permetteva di fare uno scatto in avanti, di permettere di fare uno scatto in avanti nella gerarchia sociale. Per lungo tempo c'è stata una sorta di gratitudine nei confronti della fabbrica, una gratitudine che ci ha messo anche molto tempo a sgretolarsi. Ci sono degli operai che non, come appunto il padre di una delle protagoniste del mio video che non ha mai perso la fiducia nella fabbrica, anche quando ha saputo di essere marato e di stare per morire per colpa della fabbrica stessa. Nonostante questo comunque gli era grata per tutto quello che gli aveva permesso di fare. Da un disastro ambientale all'altro, dalla città bianca alla terra dei fuochi, il reportage delle Iene, Nadia Toffa e Marco Fubini, la camorra uccide anche senza le pistole, è ambientato tra Caserta e Napoli, nel cosiddetto triangolo della morte, un territorio dove, a causa dei rifiuti tossici sversati illecitamente dalla camorra, l'incidenza dei tumori è tripla rispetto al resto d'Italia. Quando ti scontri con una realtà che hai in casa, perché ricordiamoci che la terra dei fuochi è in campagna, è quel territorio che sta tra Caserta e Napoli, quindi quando ti trovi ad avere a che fare con un territorio così martoriato ti chiedi il perché, presto detto, la camorra per anni ha sversato sostanze tossiche illegalmente provenienti dalle industrie del nord Italia ma anche dell'estero. Quando senti Carmine Schiavone che ti racconta quali sono i pericoli, i rischi, perché ti racconta esattamente che cosa è stato sversato in queste terre, ti chiedi come possa essere possibile che questa situazione non sia stata affrontata negli anni, sono vent'anni che si sa, vent'anni che le persone abitano questi terreni, quando senti mamme che raccontano la paura di bere l'acqua del rubinetto, di cosa dare da mangiare ai propri figli, ci terrorizza, ci immobilizza. È importante dar voce a una situazione del genere perché l'attenzione si focalizza e si spera che ci sia un'azione da parte del governo. Un festival che ha visto la partecipazione di corti di altissimo livello, già apparsi sulle tv nazionali, accanto ad opere altrettanto pregevoli, sapientemente realizzate da giovani registi freelance, spesso autoprodotte, talvolta scritte, girate e montate dallo stesso autore, nel segno di una comunicazione sempre più improntata al valore delle idee e della persona, prima ancora che all'importanza del mezzo tecnico. Sentivo un ragazzo che diceva io sono disoccupato da due anni però non mi sono fatto abbattere e anziché stare a casa rifiutato, anziché subire il rifiuto mi sono preso la telecamera in mano e ho cercato di realizzare un'idea, un progetto e quindi insomma come dire anche procacciarsi il lavoro. La fortuna del video è che davvero adesso basta poco, basta una telecamerina, un microfono e si possono realizzare lavori bellissimi al pari di quelli che finiscono in tv. Perché contano le idee, il punto di vista, conta la persona che sta dietro una videocamera, non sono più i mezzi tecnici quelli, anche noi giriamo con delle telecamerine, questo servizio è girato con una palmarina perché non volevamo farci vedere, infatti lei non è in divisa, per cui i nostri mezzi sono mezzi zero, poi ovviamente abbiamo una produzione che ci supporta, il nostro lavoro per cui siamo fortunati in questo, però veramente conta chi lo fa e cosa pensa, questa è la cosa più importante e in questo festival è molto evidente insomma.